Nel Palaggiustizia di Bari rimangono al momento solo i magistrati della Procura che non hanno accettato l'invito del Ministero della Giustizia a lasciare l'immobile di via Nazareans dichiarato inagibile. È iniziato oggi infatti il trasferimento di giudici e personale amministrativo nelle sedi di via Brigata Regina e nell'ex sezione di staccata di Modugno, con gli inevitabili disagi che ne stanno derivando e che erano stati ampiamente previsti dagli addetti ai lavori. Da oggi nel palazzo di via Brigata Regina opereranno circa 200 persone in uno spazio di poco più di mille metri quadri, insufficienti ad accogliere anche solo la metà dei dipendenti previsti, che a questo punto dovranno sottoporsi a delle turnazioni per evitare il sovraffollamento delle stanze. Un mezzo della Polizia Penitenziaria provvederà invece a trasportare il personale a Modugno, dove lavoreranno 53 cancellieri e 15 giudici, impegnati a sistemare in questa sede armadi e fascicoli provenienti da via Nazareans. Non solo i processi subiranno ritardi, ma anche tutti gli altri servizi normalmente erogati al cittadino registreranno inevitabili rallentamenti. Sullo sfondo rimane la querella politica tra il sindaco di Bari Antonio De Caro, che pochi giorni fa aveva rilasciato un'ordinanza per prorogare i termini dello sgombero del Palagiustizia, e il Ministero della Giustizia, che ha invece ordinato l'immediato abbandono dell'immobile di via Nazareans per motivi di sicurezza. Il primo cittadino si aspetta ora che il governo individui quanto prima una soluzione adeguata ai bisogni della giustizia barese.